Ai bambini contenti! Ciao! Io sono Cante l'elefante e oggi vi dirò cosa voglio fare da grande! Voglio fare il dottore, le persone aiutar! Voglio fare il poliziotto e i cattivi catturar! Io voglio fare il cuoco, tanti piatti cucinar! Voglio fare il pompiere e tutti voi salvar! Un dottore! Un poliziotto! Un cuoco! Un pompiere! E tu cosa vuoi fare da grande? Vorrei essere il migliore in quello che farò! Bambini, ditemi cosa volete fare voi!